Siamo andati su quella cappella, era San Michele, com'era quella cappella? Mi ricordo. Siete andati una volta che non sono venuto io. Sì? Sì. Davvero? Sì. Ci davi delle dritte, al ponte non sapevamo dove andare se abbiamo chiamato e ci hai dato delle dritte, è vero. Sì. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.